C'è chi ama la post-produzione delle foto e chi la odia. Una cosa però è certa, non puoi farne a meno, puoi accontentarti dei JPEG che escono dalla fotocamera, ma ti servirà comunque un sistema affidabile per valutare il lavoro che hai delegato agli algoritmi della macchina fotografica. Insomma, ti serve un monitor affidabile, ma soprattutto adatto alla fotografia. Vediamo quali sono le cose che devi conoscere per scegliere un monitor e quello che ho scelto io, sia per la post-produzione fotografica che video. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Ti dico la verità, io non amo la post-produzione, ma nonostante questo ti assicuro che il monitor è uno di quegli strumenti su cui vale la pena investire. Lo devi considerare un po' alla stregua di un accessorio fotografico molto importante, come può essere un obiettivo, ma addirittura la macchina fotografica stessa, Se lo scegli con cura, infatti, durerà per anni e ti farà risparmiare un sacco di tempo, seccature e potenzialmente anche di soldi. Vediamo dunque quali sono le considerazioni da fare per sceglierlo al meglio. Prima però metti un bel like a questo video, iscriviti o abbonati con i pulsanti appositi qui sotto, ma se vuoi risparmiare sui tuoi acquisti fotografici, su quello del monitor, e supportare anche il mio lavoro in maniera totalmente gratuita, dai un'occhiata ai link nella descrizione qui sotto. La prima caratteristica che ti invito a considerare è il tipo di pannello, la tecnologia con cui viene visualizzata l'immagine. Io ti consiglio di scegliere un monitor IPS. Esistono altre tecnologie, alcune come la TN, in tutte le sue varie declinazioni, che hanno caratteristiche non sufficienti per un utilizzo in ambito fotografico o di post-produzione video, altre potenzialmente migliori come la AMOLED, ma attualmente hanno costi proibitivi e non sono neanche così tanto impiegate nei monitor per la fotografia. Considera anche con attenzione il rivestimento del pannello. Io ti consiglio un monitor opaco. Quelli lucidi hanno una nitidezza leggermente inferiore, proprio se lo vai a guardare da vicino, ma già a mezzo metro di distanza è difficile apprezzare questo incremento di nitidezza e un monitor con il rivestimento opaco è molto più comodo da utilizzare. Non ti speccherai nel monitor stesso, dunque avrai una migliore visibilità anche se non sei in un ambiente ideale. I monitor lucidi sono molto più belli da vedere, molto più scenografici, ma a mio avviso troppo scomodi da utilizzare, specialmente in ambito fotografico. C'è poi il refresh rate, la luminosità e il contrasto, che sono gli aspetti forse più considerati dal marketing dei produttori. Nella realtà, per quello che riguarda l'uso fotografico o anche video, questo ci interessa assai poco e se prendi in considerazione i parametri che seguono, non dovrai minimamente preoccuparti di luminosità, contrasto e neanche di refresh rate. La caratteristica forse più importante da considerare, anche perché influenzerà tantissimo il prezzo del nostro monitor, è il cosiddetto color gamut, cui i produttori spesso si riferiscono anche col termine spazio-colore. Di che cosa si tratta? Avrai senz'altro visto una volta questo grafico, che rappresenta tutti i colori che sono visibili con i nostri occhi. Non esiste un monitor in grado di visualizzare tutti questi colori e sono stati standardizzati dei sottoinsiemi, dei gamut più ristretti, degli insiemi di colori più piccoli, di cui i più importanti, i più noti in ambito fotografico e video, sono sicuramente l'SRGB, l'Adobe RGB, il REC 709 e ultimamente il P3. Quando trovi nelle caratteristiche indicate una copertura dello spazio-colore X al 90-95-100%, significa che quel monitor è in grado di riprodurre fedelmente quell'insieme di colori, quel triangolo. Si tratta di un dispositivo RGB, per cui questi spazi-colore sono dei triangoli. Tutti i colori che rientrano all'interno di quel triangolo sono riproducibili da un dispositivo che supporta il 100% di quello spazio-colore. Nella pratica, il gamut di cui hai bisogno dipende dall'uso che farai delle tue immagini. Se ad esempio utilizzi le tue foto soltanto per la pubblicazione su internet, il tuo spazio di colore di riferimento è l'SRGB e un monitor che abbia una copertura del 95-97% dello spazio-colore SRGB per te andrà già bene. Se tu invece vuoi stampare queste immagini ad esempio in tipografia per dei libri o dei giornali, il tuo spazio di riferimento è l'Adobe RGB e in questo caso dovrai cercare un monitor che copra almeno il 95% di questo spazio-colore. Stesso discorso se vuoi stampare su macchine a getto d'inchiostro di alto livello. In questo caso, di nuovo, il tuo spazio-colore di riferimento sarà l'Adobe RGB o il P3 e andrai cercando un monitor che idealmente copra il 100% di questo spazio-colore. Già con il 95-97% comunque hai una accuratezza più che adeguata. Dire che un monitor è in grado di riprodurre, quindi di coprire, come si dice tecnicamente, un determinato spazio-colore non ci dà nessuna indicazione della qualità, della accuratezza dei colori di quel monitor. Questo è un altro parametro e in questo senso troverai delle grosse differenze di prezzo, ad esempio tra i monitor A8 e a 10 bit. Che cosa significa? Un monitor, per riprodurre un'immagine, la scompone ovviamente in pixel, esattamente come succede quando scatti una fotografia. Ciascuno di questi pixel nel monitor è suddiviso in tre elementi, i cosiddetti subpixel. Dunque, in un pixel, dentro abbiamo tre elementi, uno rosso, uno verde e uno blu. E se lo guardi sufficientemente da vicino, riesci anche a vederli. Ognuno di questi elementi in un pannello a 8 bit può avere 256 livelli, da completamente spento a completamente acceso in 256 gradini. Quel pannello potrà riprodurre una quantità di colori che è 256 per 256 per 256, rosso, verde e blu su 256 livelli, fanno 16 milioni e qualcosa di colori. In un pannello a 10 bit, anziché avere 256 gradini, ne ho 1024. E questo ovviamente aumenta l'accuratezza con cui posso riprodurre i colori. Esistono pannelli realmente a 10 bit e pannelli che simulano i 10 bit. Simularli che cosa vuol dire? Che in rapida successione viene acceso un gradino o quello successivo. Per cui il nostro occhio percepirà un colore intermedio. In un vero pannello a 10 bit invece viene emesso esattamente il livello di segnale necessario. Quindi avremo una riproduzione dei colori più accurata. Sentirei anche parlare e nelle specifiche dei monitor di livello più alto lo trovi generalmente indicato di delta E. Cioè di quanto il colore che viene riprodotto dal monitor si allontana dal colore ideale. da quello che realmente dovrebbe produrre. Un delta E inferiore a 2 è già estremamente accurato per cui avrai una riproduzione dei colori estremamente affidabile. Considera che un pannello a 8 bit va già bene per la stragrande maggioranza degli usi e intendo ovviamente uso in ambito fotografico e che se sceglierai un pannello a 10 bit devi accertarti che i 10 bit siano supportati dall'intera catena che contribuisce alla formazione dell'immagine compresa chiaramente anche la scheda video. C'è poi l'uniformità di illuminazione e l'angolo di visione e qui entriamo un po' in un ambito dove il monitor tutto sommato devi vederlo o comunque guardare delle recensioni. L'uniformità di illuminazione difficilmente è riportata nelle specifiche tecniche e l'angolo di visualizzazione è sì riportato ma si riferisce all'angolo in cui tecnicamente è visibile una immagine e a te quello invece che interessa è che questa immagine non cambi nel momento in cui ti sposti. Se io sono qui dunque accanto alla persona che sta lavorando a questo monitor devo poter vedere la stessa immagine che sta vedendo l'altra persona perché altrimenti il cliente che è ipoteticamente accanto a me vedrà una cosa diversa e dunque non sarà soddisfatto del mio lavoro e potrebbe darmi delle indicazioni sbagliate ma io stesso se mi sposto leggermente e vedo colori differenti ovviamente avrò una vita molto difficile nell'applicare una color correction corretta tanto alle fotografie quanto in ambito videomaking. Comoda può essere la palpebra quell'accessorio che si mette intorno al monitor per ripararlo dalla luce di sicuro se lavori in esterni con un monitor da campo è un accessorio molto molto utile in un ambiente controllato come quello in cui dovresti far post produzione forse non è quello che dovrebbe guidare la scelta del monitor con tutto quello che abbiamo detto dovresti aver individuato una serie di monitor ma se fai caso mancano due caratteristiche fondamentali dimensione e risoluzione del nostro nuovo monitor e questo perché? perché una volta che abbiamo scelto il livello qualitativo che intendiamo adottare in base al nostro budget possiamo scegliere appunto dimensione e risoluzione in quanto a mio avviso non c'è una reale controindicazione a prendere un monitor troppo grande o con una risoluzione troppo alta a meno che tu non abbia particolari esigenze e con un grosso distingo per quello che riguarda il mondo Apple lo vediamo tra un istante detto questo per l'uso nella post-produzione ti direi che una dimensione minima sono i 20 pollici con una risoluzione Full HD considera che l'insieme di dimensione e risoluzione dunque di quantità di pixel presenti nel pannello determinano il cosiddetto pixel pitch cioè la dimensione la distanza tra un pixel e l'altro minore è questa distanza e maggiore sarà la sensazione di nitidezza che avremo idealmente noi dalla distanza a cui normalmente lavoriamo non dovremmo riuscire a vedere questi pixel che nella realtà ci andrebbero a disturbare se non li vediamo abbiamo la sensazione di un'immagine continua non costruita da quadratini ma come fosse la realtà per ottenere questo risultato appunto su un 20 pollici il Full HD è la risoluzione minima che ti consiglio se il budget te lo consente un 24 o un 27 pollici sono di sicuro una scelta più versatile nel caso del 24 pollici la risoluzione davvero minima e il Full HD meglio qualcosa in più un 27 pollici dovrebbe essere almeno 4k altrimenti dovrei metterlo talmente distante per non vedere i pixel che si perde il vantaggio di avere un pannello più grande sulla base di tutte queste caratteristiche ho selezionato una serie di monitor adatte a fotografie e videomaker di vario livello dunque con diverse esigenze ed evidentemente anche con diverso budget prima di vederli però fammi sapere nei commenti qui sotto che monitor stai utilizzando se sei soddisfatto come ti trovi con le foto se sei in difficoltà nel matchare ciò che vedi a monitor con quello che magari esce dalla tua stampante o dai laboratori dove mandi a stampare le tue foto fammelo sapere nei commenti qui sotto il monitor che ho scelto io quello che stai vedendo è un modello di HP si chiama 227XS G3 è un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K che copre il 100% dello spazio colore sRGB e il 98% del P3 il tutto con un delta e abbondantemente sotto a 2 nel complesso è un monitor che ha un ottimo angolo di visione anche se sei molto angolato i colori non cambiano è bello uniforme sufficientemente nitido grande a sufficienza per una postazione così piccola io qui sopra un monitor più grande non sarei riuscito a metterlo se anzi vuoi approfondire il setup che vedi qui dietro che come avrai capito è quello che utilizzo per girare la maggior parte dei video in studio qua sul canale YouTube fammelo sapere nei commenti perché ci sono alcune soluzioni piuttosto interessanti tornando al nostro monitor lo stand è regolabile in ogni direzione ma volendo puoi anche utilizzare un braccio VESA perché il monitor supporta anche questo tipo di attacco c'è una uscita USB-C per cui può utilizzare questo monitor come docking station per un portatile che evidentemente supporti questo standard e tutta questa roba a meno di 1000€ praticamente siamo nell'ambito sia come prezzo che come caratteristiche del BenQ SV270C un monitor estremamente popolare tra i fotografi ma con una risoluzione di 4K anziché il Full HD del BenQ dunque a mio avviso un bel affare certo 1000€ non sono pochi in realtà io l'ho pagato parecchio di meno quando ci sono le offerte se vuoi verificare il prezzo ti lascio il link nella descrizione qui sotto sono il link di affiliazione acquistando da questi link tu magari risparmierai qualcosa ma di sicuro non spenderai di più e supporterai gratuitamente il mio lavoro prima di vedere le alternative un consiglio molto importante lasciati nel budget spazio per l'acquisto di un calibratore per il monitor questo è un modello di datacolor che io ho preso in realtà a prezzo stracciato su Amazon te l'ho segnalato sul mio canale Telegram ti invito ad iscriverti il link in descrizione ma questo tipo di accessori è molto molto importante perché ti permette di calibrare il monitor in base proprio alle tue condizioni ambientali e questo dà all'accuratezza dei colori quella marcia in più che se fai post produzione in maniera anche solo minimamente seria a mio avviso è necessaria dunque considera seriamente l'acquisto di questo dispositivo e se vuoi sapere come utilizzarlo nello specifico fammelo come al solito sapere nei commenti e ti preparo un tutorial ma veniamo alle alternative se vuoi spendere il meno possibile l'Asus ProArt 278QV è una scelta che come rapporto prezzo prestazioni a mio avviso è quasi impossibile da battere copre il 100% dello spazio colore sRGB o Rec.709 che è più o meno la stessa cosa ha una dimensione di 27 pollici la risoluzione ha metà strada tra il Full HD e il 4K tutto sommato adeguata alla dimensione e costa veramente poco link nella descrizione qui sotto se il budget te lo permette il Dell UP2720Q è una scelta fantastica è un monitor a 10 bit reali non fa quel giochetto cui ti accennavo dei due colori gestiti a 8 bit per simulare i 10 bit ma nonostante questo il prezzo è ancora contenuto nell'ambito dei monitor a 10 bit reali e copre lo spazio colore ad obrgb al 100% e il P3 al 98% un gran bel monitor destinato a durare davvero tanto nel tempo c'è poi l'Apple Pro Display XDR un monitor che copre il 100% dello spazio colore P3 di sicuro è un monitor molto costoso link nella descrizione qui sotto ma è anche un apparecchio che a mio avviso ha ricevuto più critiche del necessario e io ritengo fatte più che altro per Nvidia si tratta secondo me di una ottima scelta per chi fa fotografia e vicina all'ideale per chi fa post produzione video oltretutto sei certo della sua assoluta compatibilità col Mac ti accennavo all'inizio a questo problema non è che tu non possa collegare qualunque monitor ad un Mac questo puoi sempre farlo ma puoi incorrere in un inconveniente o ti troverai con del testo troppo piccolo o troppo grande rispetto alla misura diciamo ideale oppure devi accettare un piccolo degrado e a volte neanche tanto piccolo degrado di prestazioni questo succede a causa della maniera peculiare in cui funziona il sistema grafico del Mac in linea di principio e in estrema sintesi quello che devi scegliere è un monitor che sia il più vicino possibile a 110 o 220 ppi che sono poi a densità di pixel standard che sono adottate dai monitor Apple originali questo corrisponde ad avere un 20 pollici con una risoluzione ad esempio full hd o 4k o ad esempio sempre un 40 pollici con risoluzione 4k o 8k ora la questione da un punto di vista tecnico è parecchio articolata e non voglio scendere nel dettaglio anche perché Fabio Porta ha fatto un video dove spiega esattamente perché succede questa cosa te lo linko qui accanto se vuoi approfondire l'argomento e dargli un'occhiata nel frattempo metti un bel like a questo video condividi questa guida per scegliere il monitor ideale per la fotografia ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video